box divertente e a tratti anche spettacolare nelle fasi regionali dei campionati italiani per quel che riguarda le qualifiche dei finalisti elite nei 51 chili lorenzo madiai della celano box ha vinto con daniel salta la macchia della bruno arcari boxing team nei 60 chili paolo dostuni della pugilistica stavonese davanti a nunez steven della boxing gnc nel corso della finale però il vincitore si è infortunato e ai campionati nazionali parteciperà quindi nunez steven nella categoria 63,5 chili michele di vietro della boxing gnc davanti a melisa raimann dell'ardita boxing nei 67 chili medigueribi del fighting box imperia davanti a gabriele marchese della celano box genova nei 71 chili ha vinto luca esposito trionfo genovese secondo classificato simone semucci gladiator nei 75 chili vince alessio fega della celano box genova secondo marco zucca trionfo genovese infine negli 80 chili michele aia dell'ardita boxing genova alla meglio sul secondo classificato giacomo ruggiero della mameli box nei 54 chili passa alla fase nazionale andrea de montis della thunder boxing genova per quanto concerne le qualificate agli italiani elite femminile nella categoria 50 chili parteciperà a noemi caffarelli della celano box genova nei 52 chili jelena varese del team moschitta nei 60 chili marta masini del boccadasse boxing club e nei 63 chili alice moro del team moschitta le finali si sono svolte il 9 novembre alla sala chiamata del porto con l'organizzazione della celano box mentre la trionfo genovese aveva organizzato e ospitato le fasi eliminatorie il 2 e il 3 di novembre i vincitori parteciperanno ai campionati italiani assoluti che si svolgeranno in lombardia dal 3 all'8 dicembre che si svolgono in lombardia dal dottor Grazie a tutti.